Ritorniamo a pianificare la semina o risemina del nostro prato poiché siamo ormai giunti a metà settembre. Le temperature dalle mie parti sono ancora molto alte ma se sbirciamo il meteo possiamo già intravedere un periodo ottimale per la semina. Abbiamo ancora qualche giorno di bel sole quindi possiamo approfittare per tutte quelle operazioni preliminari che sicuramente ci faciliteranno il lavoro in futuro. Per prima cosa se abbiamo un terreno argilloso e compatto possiamo approfittare per cercare di migliorarlo con delle bucature e l'aggiunta di sabbia silicea. Per bucare il terreno possiamo ricorrere al classico forcone cercando di insistere sulle zone più problematiche laddove il terreno è più compatto e tende a spaccarsi nei periodi più caldi oppure in tutti quei punti in cui il prato tende ad andare rapidamente in sofferenza sia nei periodi più caldi che dopo grandi piogge. Sicuramente aggiungere sabbia in questi settori ne migliorerà il drenaggio e la traspirazione. Indispensabile alla corretta germinazione sarà il perfetto funzionamento del vostro impianto di irrigazione. Non c'è cosa peggiore che accorgersi dopo aver seminato che l'impianto di irrigazione non funziona o funziona male. Dovremmo andare a sistemarlo calpestando il terreno bagnato e di semi appena depositati spingendoli in profondità e chissà quando li rivedremo. In pratica combineremo un vero disastro. Quindi pensiamoci prima effettuiamo la pulizia e il controllo di tutto l'impianto di irrigazione magari possiamo approfittare anche per qualche lavoro più impegnativo tipo se un irrigatore non è bene allineato al terreno e dobbiamo scavare un po' per sistemarlo questo è un ottimo momento per farlo visto che tanto dopo dobbiamo riseminare da zero. Oltretutto sono solitamente lavori in cui rischiamo di bagnarci inevitabilmente quindi effettuarli quando ancora le temperature sono alte avrà sicuramente i suoi vantaggi. Capitolo formiche sicuramente da piccoli avrete sentito la storia della cicala e la formica quindi saprete che in questo preciso istante le formiche stanno facendo scorta per l'inverno mentre le cicale se la cantano ancora in cima agli alberi e non aspettano altro che voi spargiate i semi da prato per farne razzia e conservarli in vista dei giorni più freddi quindi pensiamoci prima distribuendo un ottimo granulare antiformiche. Io solitamente utilizzo questo dei lavebi è abbastanza economico costa 9 10 euro per il sacchetto da chilo e funziona benissimo anche se ha bisogno di un certo tempo per entrare in funzione quindi va distribuito con largo anticipo. se andiamo a distribuirlo contemporaneamente alla semina sicuramente perderemo gran parte della sua efficacia. Il medesimo risultato può essere raggiunto anche con un prodotto naturale ovvero la farina di mais ma in questa precisa circostanza ve la sconsiglio poiché potrebbe avere un effetto collaterale molto dannoso. La farina di mais non cotta fermenterà durante la digestione e le formiche hanno un addome stretto e rigido incapace di espandersi quindi per loro risulterà fatale. Io l'ho provata e funziona veramente molto bene dopo alcuni giorni non c'era più traccia di formiche e nemmeno del formicaio. Ma le formiche non sono le uniche ghiotte di farina di mais ma piace molto anche agli uccellini per i quali tra l'altro è innocua. Ma attirare dei volatili sul nostro prato prima di seminare non è una scelta propriamente saggia poiché una volta individuato del cibo in un posto quella per loro diventerà una zona di alimentazione e torneranno sicuramente a controllare anche dopo che avremo seminato magari con tutta la famiglia al seguito. Quindi teniamoli alla larga almeno finché il nostro prato non è bello cresciuto. Ora non ci resta che attendere il momento propizio per seminare. Non abbiamo la sfera di cristallo ma ci basterà una semplice applicazione meteo. Una volta che individuiamo una settimana in cui le temperature si abbassano e ritornano le precipitazioni diciamo che per quella settimana dobbiamo già avere il seme in terra. Poiché i primi 7-10 giorni sono determinanti per la germinazione e per la buona riuscita del nostro prato. La germinazione è un processo irreversibile che non può essere messo in pausa. Una volta attivato può concludersi solo in due modi o con l'attecchimento e la germinazione la nascita della piantina oppure con la morte del germoglio. Non c'è una terza via. Se escludiamo eventi esterni tipo uccellini, formiche oppure i cane che scava in giardino l'unico rischio vero e proprio per la germinazione è che cali troppo il livello di umidità, il terreno si asciughi eccessivamente decretando la morte del germoglio. Quindi seminare a ridosso dell'arrivo di precipitazioni o comunque di un periodo di non pieno sole avrà sicuramente i suoi vantaggi e ci metterà al riparo da questa eventualità. Bene, per il momento non ho altro da aggiungere se non che iniziamo a dare un occhio a tenere sotto controllo le previsioni in meteo a breve periodo poiché sicuramente da qui in avanti si aprirà un bel momento per seminare. Cerchiamo di anticipare l'arrivo delle precipitazioni di qualche giorno poiché per seminare abbiamo bisogno ovviamente di una bella giornata, ma anche se per i primi giorni possiamo sopperire con l'impianto di irrigazione, avere già il seme a terra quando arrivano le precipitazioni aumenterà sicuramente di molto le nostre chance di successo. Per il momento mi fermo qui, come sempre vi invito a lasciare un like a questo video e ad iscrivervi al canale per altri contenuti interessanti sul mondo del giardino e del giardinaggio. Grazie ancora per aver guardato al prossimo video.